ma bentornati anzi benvenuti alla prima puntata della rubrica frame by frame una rubrica che mi sono inventato io il nome perché il resto più o meno l'ho scopiazzato da altri diversi youtuber inglesi americani australiani ma sarà una rubrica interessante in questa lunga pausa ho fatto due cose fondamentali la prima è farmi regalare dalla mia ragazza questa lampada cactus che è obbligatoria perché se si parla di videomaking o si fa anche lo youtuber nella vita bisogna avere per forza la lampada cactus la seconda cosa è pensare a che tipo di contenuti avrei potuto portarvi sul canale in modo sempre il più dettagliato e sintetico allo stesso tempo possibile questo è il tipo di contenuto che vi voglio portare e questa è la prima puntata di frame by frame appunto in cui vedremo le tipologie di inquadrature che possono essere utilizzate nella produzione video in base a ciò che si vuole comunicare noi durante questa rubrica ammesso che vada avanti dipende da quanto sarete bravi a commentare iscrivervi al canale condividere questo video perché questo è un video che può interessare non solo agli amanti di video editing video making ma anche a persone curiose che sono appassionati in modo superficiale al cinema quindi spammate questo video a più non posso in base a questo noi vedremo delle nozioni che sono applicabili a tutti i tipi di video nella produzione video musicale oppure pubblicitaria quindi prendete carta e penna e segnatevi i punti di cui vi parlerò in questo video il film e qualsiasi video in generale sono fatti di sequenze le sequenze sono fatte di scene e le scene sono fatte di inquadratura dobbiamo capire però le caratteristiche e il valore narrativo di ogni inquadratura in questo video inizieremo con il quadro generale delle inquadrature più usate e scenderemo nei dettagli per capire in che occasioni utilizzarle numero uno l'elemento visivo più comune per aprire una scena o addirittura un intero film è il totale d'ambiente in inglese establishing shot è tipicamente un'inquadratura abbastanza ampia usata per stabilire per esempio la posizione geografica o l'ora del giorno e per mostrare la scala dei soggetti in relazione all'ambiente circostante è usata anche per passare da un ambiente ad un altro riprese di questo tipo sono fondamentali in generi di video e film come quelli di fantascienza dove è necessario introdurre mondi completamente nuovi blade runner 2049 si apre con una serie di inquadrature ampie che ci permettono di avere le prime impressioni della terra del futuro con fattorie industriali e futuristiche fuori dalla città numero 2 passiamo al master shot come l'establishing shot anche il master shot conferma l'ubicazione e la geografia della scena ma chiarisce anche quali sono i personaggi che sono presenti nella scena e dove si trovano in relazione l'uno con l'altro qui vediamo un master shot del padrino parte 2 che inquadra la famiglia corleone la maggior parte di questa scena si svolge nel master shot per enfatizzare il rapporto stretto tra le famiglie il master quindi cattura la scena nella sua interezza e fornisce al montatore qualcosa da tagliare se necessario numero 3 il wide shot con un'inquadratura larga di questo tipo si può rappresentare la relazione tra l'ambiente e di personaggi l'inquadratura wide shot è leggermente diversa dalle precedenti perché si concentra di più sul mettere in risalto la scala dei personaggi e quindi le loro dimensioni rapportandole con quelle dell'ambiente circostante può essere utilizzato quando dobbiamo rappresentare ad esempio dei soggetti soli persi o sopraffatti e passiamo adesso al numero 4 il full shot in italiano il full shot corrisponde alla figura intera il nostro soggetto principale si estenderà quindi dal bordo inferiore al bordo superiore della nostra inquadratura non sempre è necessario mettere il soggetto al centro dell'inquadratura ma notate quanto spesso la ripresa venga effettuata con il soggetto proprio al centro questo shot è efficace perché è abbastanza stretto per poter raccontare una storia con il volto del personaggio ma anche abbastanza ampio per approfondire la storia osservando la postura di tutto il corpo e eventuali movimenti e dettagli che altrimenti non si coglierebbero con inquadrature troppo vicine o troppo lontane è un ottimo espediente per presentare un personaggio in tutta la sua interezza e il suo splendore numero 5 il medium full shot questo tipo di inquadratura è disposta dalla sommità della testa del soggetto fino a poco sotto la sua vita quindi possiamo vedere alcune angolazioni complementari composte da un medium full shot usatelo quando dovete presentare un argomento o una situazione conflittuale o se soprattutto potrebbero essere estratte delle armi durante una sequenza in movimento numero 6 medium shot forse l'inquadratura più popolare di tutto il cinema ma perché probabilmente perché si tratta di un'inquadratura neutra che non è né drammatica come un primo piano e né distanziata come un'inquadratura larga e cattura il soggetto in una dimensione simile a quella con cui interagiamo con le persone dal vivo normalmente c'è da sottolineare che esistono diversi tipi di medium shot che però approfondiremo poi in video successivi la composizione tipica di un'inquadratura media inizia sopra la vita ma subito sotto il petto e termina appena sopra alla testa anche nei film di animazione valgono le stesse regole di composizione in questo film miguel guarda la tv con il suo idolo il medium shot in questo caso si adatta parecchio bene questa inquadratura permette infatti di vedere gli oggetti di scena dall'altarino di miguel ma anche il dettaglio sullo schermo televisivo e le reazioni di miguel stesso insieme all'oggetto che tiene tra le braccia quindi per ricapitolare usiamo questa inquadratura quando abbiamo la necessità di caratterizzare un personaggio attraverso il suo aspetto ma anche tramite l'ambiente che lo circonda che in qualche modo è legato alla sua personalità che dire spezziamo un po lo sponsor di oggi sono io perché ho praticamente tagliato i rapporti con quasi tutti gli sponsor che avevo su youtube perché se non sentivo l'ansia da prestazione quindi niente l'unica cosa che mi viene a dire lasciatelo un commento e fatemi sapere che cosa ne pensate di questa nuova tipologia di video che ho intenzione di portare sul canale vi ricordo che potete seguirmi anche su instagram cosa non da poco perché anche quello mi serve per riuscire ad avere più collaborazioni e quindi più contenuti da potervi offrire su tutte le piattaforme passiamo al numero 7 il medium close up quando una ripresa inquadra un soggetto dalla metà del petto fino a poco sopra la testa si parla di primo piano medio o medium close up i medium close up servono per ridurre le distrazioni e per focalizzare l'attenzione principalmente sui personaggi e sui loro stati d'animo dando così priorità alla storia e i dettagli dei protagonisti senza però perdere la fisicità con inquadrature ancora più ravvicinate qui thanos schiocca le dita sappiamo che questo è un momento cruciale e con questa dimensione della ripresa siamo in grado di conservare sia buona parte di thanos e del suo fisico che l'importante guanto dell'infinito accompagnato dallo sguardo crudele e soddisfatto di thanos il medium close up viene utilizzato appositamente proprio per mostrare anche il suo stupore e la sua delusione nel momento in cui fallisce numero 8 il close up il close up classico è forse l'arma più potente per evidenziare un cambiamento di emozione o enfatizzare un ritmo drammatico sullo schermo con diversi cambi di inquadratura questi primi piani sono spesso disposti all'altezza degli occhi per dare molta enfasi alle espressioni facciali e allo stato d'animo dei personaggi ai loro pensieri e per far intuire le loro intenzioni questa è un inquadratura tremendamente efficace per descrivere momenti di decisione tensione o ansia passiamo al numero 9 primo piano estremo o extreme close up questo tipo di shot inquadra un soggetto per isolare un'area specifica potrebbero essere le labbra le orecchie o il naso ma in genere vengono inquadrati gli occhi nella maggior parte dei casi come qui in kill bill volume 1 quando uma turman viene attaccata da questo esercito e la sequenza è una continua alternanza tra i punti d'ingresso dei nemici e lo sguardo della protagonista allora si enfatizza la tensione quando però è necessario spostare l'attenzione su un oggetto specifico è fondamentale per evidenziare qualcosa di molto rilevante e cruciale per la narrazione che sta per succedere o che è appena successo allora si utilizza l'inquadratura dettaglio che è quasi lo stesso dell'extreme close up ma di solito viene applicato su un particolare che non è per forza una parte del corpo quindi in genere viene inquadrato un oggetto o un soggetto presente nella scena che o sta per compiere o ha compiuto un'azione oppure la subisce da parte di un altro elemento presente in scena bene il video per oggi finisce qui se siete arrivati fino a questo punto io vi ringrazio di cuore vi ricordo che potete seguirmi anche su instagram cosa non da poco perché anche quello mi serve per riuscire ad avere più collaborazioni e quindi più contenuti da potervi offrire su tutte le piattaforme noi ci vediamo nel prossimo video iscrivetevi al canale perché a voi non cambia nulla a me cambia molto ci vediamo al prossimo video a presto iscrivetevi al canale